ciao a tutti e bentornati a pillole di storia con boppitalia oggi è mercoledì e quindi come ogni due mercoledì all'incirca andiamo ad analizzare un'opera storica questa volta dico veramente opera perché a differenza delle altre volte questa volta ecco qua che lo prendo diventando bruttissimo a vedere andiamo ad analizzare un libro e questo libro è uno dei miei libri preferiti ve lo dico proprio senza vergogna credo che se dovessi fare un elenco ogni volta che mi chiedono di leggere un libro storico o ad ambientazione storica se non c'è proprio schifo dell'epoca antica io normalmente consiglio questo come inizio che sono le porte di fuoco di pressfield ora le porte di fuoco sono un libro uscito nel 1998 il titolo originale the gates of fire che parla esattamente come dice il nome delle termopili qui lo vedete nella versione molto molto vecchia che compravano mi regalarono mi regalarono quando facevo le superiori pensate quanto è vecchio e credo di aver consumato a furia di leggere un libro che assolutamente vi consiglio questa pillola mentre lo ripoggio giù perché altrimenti non ho le mani libere per gesticolare questa pillola come al solito sarà divisa in due parti una prima parte priva di spoiler che questa volta sarà enorme anche perché il libro parla veramente principalmente della storia delle termopili lo fa usando un trucco facendola raccontare ad uno schiavo che poi diventa un servitore degli spartani e segue tutta la storia fino alle termopili che occupano in realtà il terzo finale del libro tutto il resto e tutta la parte precedente ma soprattutto lo fa lascia che la storia sia veramente il centro di tutto quindi visto che tutti sappiamo come sono andate alle termopili inutile che metta quella parte in spoiler la parte principale sarà ovviamente visibile a tutti se non avete letto il libro ci sarà una piccolissima parte finale in cui andremo un pochettino ad analizzare il finale ma vi assicuro che il libro merita veramente veramente tanto bene come vi dicevo è un libro storico perché un libro storico beh perché se avete visto 300 avete visto il film o avete letto la serie a fumetti bene quella è una rappresentazione allegorica dei 300 spartani in cui i 300 spartani sono tali ma potrebbero essere 300 robot giganti che combattono contro dei mostri spaziali non vi è alcuna ricerca storica non c'è alcuna ricerca storica nel loro modo di vestire non c'è alcuna ricerca storica nel loro modo di combattere è ovviamente un fumetto e poi un film di supereroi portati nell'antica grecia questo libro invece no questo libro cerca di ricostruire la vita degli spartani perché tutta la parte iniziale in realtà più di metà libro è sostanzialmente la vita degli spartani cioè questo personaggio xeone che scopre la vita degli spartani la vita dei loro schiavi il loro allenamento la loro ideologia anche il loro modo di vivere degli spartiati quindi della classe dominante e tutta questa parte lo scrittore devo dire che l'ha tratteggiata veramente benissimo perché sembra veramente di trovarsi in un in un villaggio dell'epoca perché poi sparta non era che un grosso 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 villaggio come come tutti voi sapete la una delle cose più particolari del libro secondo me è che non giudica mai racconta come dovrebbe fare in realtà qualunque libro storico racconta degli avvenimenti molto lontani da noi racconta un modo di pensare lontano da noi perché quello che tante volte non ci si rende conto è che secondo me il libro rende in maniera meravigliosa e che nell'antichità il pensiero era molto diverso dal nostro il modo di intendere la vita di intendere i parenti di intendere i valori era molto diverso dal nostro se pensate a 300 alla scena iniziale quindi non svelo praticamente nulla si vede il bambino che va a lottare contro il lupo ora mentalmente uno se mi dicessi prende un bambino di 7-8 anni lo manda a lottare contro un lupo dico lo mando su una montagna a sopravvivere è una follia cioè tu sei un pazzo scriteriato però nel film questo viene reso in maniera talmente eccessiva questo lupo gigante l'allegoria già delle porte già nella delle termopili già nelle all'inizio che la cosa passa completamente inosservata il nostro cervello non la registra come qualcosa di reale e quindi non si pone in rapporto mondo moderno mondo antico nel libro succede la stessa cosa ma succede la stessa cosa non tanto perché il tutto è portato all'estremo come appunto in 300 ma perché l'introduzione esattamente come quella di xeone lo schiavo è graduale all'interno del mondo spartano così l'introduzione del lettore all'interno del mondo spartano è graduale tanto che a un certo punto si arriva a comprendere cose terribili come punizione ai bambini fatiche in mani per cercare di diventare guerrieri migliori e alla fine si arriva a comprendere l'etica di guerra spartana che poi si manifesta nelle termopili è un libro che è stato scritto da un ex marine che ha credo messo all'interno quello spirito di corpo chiamiamo così che molte volte si viene a formare nei corpi militari e questo si vede molto soprattutto nella fase di battaglia ma devo dire che seppur ogni tanto c'è qualche accenno secondo me un pochettino eccessivo al cameratismo tra i soldati secondo me la cosa non è non passa non viene così male nel senso che sostanzialmente il cameratismo che si può trovare oggi tra i soldati molto difficilmente è così diverso dal cameratismo che si trovava all'epoca molto molto ben tratteggiato all'interno del libro è anche tutto ciò che accompagna il mondo spartano la vita delle donne che se ci pensate in 300 è solamente accennato in realtà per introdurre una scena di sesso francamente abbastanza inutile la vita delle donne la vita degli schiavi il fatto che all'epoca sì gli schiavi erano schiavi ma alla fine anche i padroni lavoravano almeno questo succedeva a sparta la vita del mondo greco le differenze all'interno del mondo greco la religione del mondo greco che viene tratteggiata in maniera molto leggera anche perché ovviamente il focus è su sparta però c'è e compare quel senso di misticismo che sicuramente è così lontano da noi e poi anche se molto più leggero e tratteggiato perché ovviamente vengono visti per gran parte del tempo come nemici anche il mondo persiano che lontano da quegli eccessi in cui viene rappresentato in 300 dove è praticamente un gigantesco carrozzone del circo viene rappresentato come quello che è un mondo diverso molto probabilmente più evoluto più intellettualmente avanzato sotto certi punti di vista rispetto a quello greco che si viene a scontrare contro contro appunto i greci è impressionante come in una scena il l'imperatore serse ad un certo punto parli espressamente di greci come barbari barbari sanguinari che quasi lui non è in grado di comprendere nella loro nel loro folle attaccamento al loro territorio come se un uomo abituato a governare su un impero trasnazionale che mantiene al suo interno moltissime popolazioni dandogli almeno dal suo punto di vista ricchezza pace e stabilità non possa comprendere come un piccolo popolo si possa arroccare sulle sue montagne per difendere quel pezzo di terra quando probabilmente vivrebbe meglio e forse più felice all'interno del suo impero è una visione che devo dire alle volte potrebbe essere rischiosa perché ho visto dei libri che partendo da un discorso del genere sostanzialmente pompano molto sul discorso del nazionalismo quasi portandolo in un'accezione di modernità bene questo nel libro secondo me non capita ed è uno dei grandi motivi per cui questo libro secondo me è veramente molto molto bello da leggere non si sente mai parlare di popolo greco non si sente mai parlare di ideale di libertà si sente parlare di un popolo che lotta per sopravvivere che lo fa perché è l'unica cosa che comprende cercare di mantenere proprio status quo il proprio ideale di vita e tutto il resto ma non lo fa perché lotta contro il diverso ci sono talvolta delle parole di disprezzo verso gli altri popoli che compongono ovviamente l'impero persiano ma tante volte ci sono anche parole di ammirazione c'è una scena verso metà non è così importante in cui raggiungono un'isola dove si trova se non sbaglio rodi ma non vuol dire una stupidaggine dove si trova la flotta del del gran re la flotta dell'impero persiano ebbene nel parlare con un marinaio egizio cosa che forse è l'unica è uno dei pochi scivoloni storici perché contando che l'egitto era stato sottomesso credo da quattro anni all'impero persiano pensare che un egizio sia così in alto nel controllo della flotta mi sembra un po un errore si potevano scegliere altri popoli popoli della lidia addirittura i greci della ionia perché no oppure i fenici che insomma erano anche loro popoli marinareschi ma tant'è comunque nel colloquio con quest'uomo quasi da un certo punto di vista sono e lui che rappresenta ovviamente i persiani a mostrare la propria potenza e la propria superiorità culturale e non viceversa ed è una cosa strana se ci pensate perché se proprio ci avviciniamo a 300 siamo quasi portati a pensare che da una parte ci siano gli spartani acculturati occidentali dall'altra i persiani masse di uomini mandate al macello eccetera eccetera tutto questo non c'è e poi c'è il culmine cioè la battaglia delle termopili che viene presentata in una maniera particolare perché è difficile forse spiegare cercate di seguire il mio ragionamento e allo stesso tempo una battaglia epica ma umana ci sono degli avvenimenti che vengono raccontati con un'epicità incredibile uomini che fanno cose che se solo ci pensassimo sarebbe folle ma che rimangono al contempo umani uomini che hanno la pancia tagliata e combattono tenendosi gli intestini uomini che se ci pensate è una cosa folle resistere a un dolore del genere uomini che continuano a combattere oramai stravolti il terreno viene descritto macchiato di sangue bagnato dal sudore e dalle deiezioni con i morenti sono tutte cose che vengono descritte in maniera molto 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 realistica e che rendono credo la descrizione delle termopili della battaglia delle termopili quanto di più realistico esista ed è realistico anche perché ovviamente gli spartani non sono da soli non sono solo i 300 spartiati ci sono chi li accompagna ci sono i tuoi spiesi insomma è la descrizione delle termopili che secondo me non ha bisogno di essere ulteriormente pompata per essere epica perché è uno dei fatti d'armi più conosciuti e veramente epicamente più incredibili della storia questo per quanto riguarda il libro io spero di avervi invogliato a leggerlo perché è una lettura che merita molto visto che si avvicina pasqua se non sapete cosa fare durante le vacanze di pasqua vi consiglio di leggere scorre molto velocemente non è un libro piccolissimo ma scorre molto molto velocemente nella lettura e soprattutto non è un libro non è un saggio storico ma come detto è una storia che racconta la storia con la s maiuscola una piccola postilla sul finale quindi d'ora in avanti se non avete letto il libro vi consiglio di fermarli perché sostanzialmente vi vi spoilerò il finale d'accordo chi non l'ha letto si ferma qua perfetto ho letto da molte parti delle critiche in cui sostanzialmente si andava a dire bello il libro bella la battaglia delle termopili ma sostanzialmente si pone l'accento su una parte della guerra che è limitata mentre chi veramente vinse la guerra con i persiani cioè gli atteniesi a salamina e poi ovviamente lo scontro finale via terra viene tratteggiato solamente in poche righe alla fine quasi voler dare molta più importanza a ciò che è avvenuto alle termopili piuttosto che al resto della guerra con il rischio sostanzialmente di far credere che la guerra sia stata vinta alle termopili addirittura se non sbaglio c'è una frase precisa che dice quello cioè che la guerra iniziò a essere persa alle termopili quando i greci decisero di non arrendersi secondo me è un commento francamente che lascia il tempo che trovo innanzitutto perché un libro che si chiama le porte di fuoco parla delle termopili non si può far diversamente e poi perché secondo me l'autore non voleva raccontare una storia di una guerra voleva mostrare mostrare la guerra che è diverso voleva mostrare le termopili voleva mostrare i rapporti che si vengono instaurare durante un combattimento terribile e molto probabilmente senza speranza di vittoria come quello delle termopili attenzione una cosa tra l'altro che se andate a guardare 300 ad un certo punto sembra quasi che i soldati spartani pensino di poter vincere è una follia il rapporto di forza era troppo grande è impossibile che pensassero realmente di poter vincere probabilmente combatterono in quel modo anche perché sapevano che comunque avrebbero perso e questo dal libro traspare traspare benissimo il fatto che sapevano di stare facendo un sacrificio sapevano che le speranze di sopravvivere erano poche ma che ogni giorno di combattimento avrebbe dato tempo e spazio alla grecia per potersi organizzare e per poter controbattere gli spartani non è un caso che storicamente e la cosa nel libro viene riportata partirono per le termopili solamente uomini che già avevano una prole maschile perché chi partiva per le termopili sapeva che molto probabilmente non sarebbe tornato bene con questo è tutto spero che questo video vi sia piaciuto nel caso lasciate un mi piace e iscrivetevi ma soprattutto se non l'avete letto andatevi a leggere il libro l'ho trovato in versione un pelino più moderne e un pelino più portabili oltre che ovviamente sui reader ma questo è secondario io vi saluto e come al solito vi invito a essere curiosi perché le biblioteche da fuori sono piene di libri meravigliosi da leggere se ne avete da consigliarmi li fatelo perché io volentieri li leggerò e poi magari ne farò una bella recensione più bella di questa ci vediamo la prossima volta se volete iniziare a curiosare tra le pillole qua a fianco c'è l'elenco di quelle uscite fino adesso a domani con una nuova pillola ciao ciao